Migranti, il presidente della giunta regionale Francesco Roberti, insieme al prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, ha incontrato il ministro dell'interno Matteo Piantedossi per la questione del centro per il rimpatrio da realizzare in Molise. Un incontro cordiale e interlocutorio che ha spaziato su diversi argomenti inerenti sia alla questione migranti sia più in generale la situazione sicurezza in Molise. Roberti ha anche evitato il ministro Piantedossi per visita istituzionale nella nostra regione. Sulla questione dei migranti, oltre alla eventualità di prevedere misure per l'accoglienza sull'eventuale costituzione di un centro di permanenza per i rimpatri, è stato rimarcato quanto previsto dalla normativa in vigore, ovvero che eventualmente, se necessario, la dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere anche mediamente interventi di adeguamento e ristrutturazione resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata, idonee a garantire condizioni di trattamento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Alla fine dell'incontro, Piantedossi ha dichiarato che al momento sta seguendo l'evoluzione degli sbarchi, monitorando la situazione. Qualora sarà necessario, la costituzione di nuovi CPR coinvolgerà sicuramente i presidenti di regione, tra loro anche Roberti, visto che il Molise ancora non ha individuato nessuna struttura o area interessata.